Ciao amici, amiche, Sanctuari, Sanctuari, Marco Drums Games, andiamo subito con questo soulslike, allora mi chiamo Marco Drums, vai, accetta, maschio, spettinati, ahaha, spettinati mi piacevano però, eh, andiamo con lo spettinati, colore, magari il colore, blu dai, bello, baffi, facciamo i baffi, no dai, teniamolo pulito, facciamo, qua, cavaliere, mago, paladino, ladro, cuoco, chierico, squattrinato, cacciatore, squattrinato non è male, dai, andiamo di cavaliere, all'avventura, siii, personaggio creato, amici, amiche, e Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Allora si può andare ma si deve andare Wow! Devo parare però eh! Perchè prima aveva davanti a L1? Eh così si parla Oh oh oh! Allora sono già morto! Devo trovare la principessa Beh però il mostro iniziale così è un po' Chiaramente io vado dalla parte di là per vedere se c'è qualche collezionabile Cos'è? Ehi la! Il resto non è giusto? Vorrei un rifugio? Si! Sì! 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 Il giudice guida coloro che mantengono l'ordine! Sì! 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 Ecco il candelabro dei tre! Uh! Un bel trophy! E' un belawaio di blocchi! Mentre blocchi! Un quadrato! Oh! Ah ecco quale è! Uh! cos'è? Chiave del santuario, bellissima, ok cammina equipaggia si, scori oggetti, ah si va vabbè adesso c'è solo il calderabro, ah R1 usa l'oggetto qui spaggiato, utilizziamo l'inventario bel, carino, si, semplice ma c'è sta rivendichiamo il santuario sali di livello, ah vediamo, non ho soldi quanta roba c'è un'offerta coccio, bisacca di sangue e poi bisognerà capire uuuh uuuh oh questo mi prende sempre dai vieni giù orc aspetta prima di uscire andiamo su sempre se si può oh caspita e more aspetta prima di uscire allora potrei andare giù ma scusami ma giù non sono da dove forse non è dove sono arrivato ma si che sono dove sono arrivato ah ma si ricregano se adesso entro forse ho tirato una legnata allora qua c'è un cancello ah di qua non ci posso andare orca ok così si può salire direttamente di qua bella roba bella roba oh un cane dai dai 550 di sale una best cosa ci fa col sale no mi ha rubato tutto il sale mi ha rubato tutto il sale abbiamo capito che è una porta però un po' non si può incontrare allora potrei salire direttamente sopra non si può incontrare 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 si prende proprio il schieno mi penso non si può incontrare ma per salire tanta roba facoltare fiaschetta rossa ok ok sì ma ancora no lì non ci posso andare qui ti ha ammazzato tutti no 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 sì sono uscito adesso però posso salire anche no no allora no 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 quindi devo scendere e quindi devo andare dove c'è il cane allora adesso dobbiamo andare dai cagnoloni eh vediamo un secondo via scappa 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 no 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 caspita è vero entrando alle porte 1200 di sale no 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 niente mi rubano tutto e rubano tutto punto no 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 1200 1200 sale così ragazzi allora bisognerà per arrivare ad un certo punto a salire di livello dentro su o questo mi è arrivato due legnate e quindi qua non mi ricordo più che cosa c'era nulla beh graficamente non è miracolo raga però è un bel gioco retro fatto bene allora vediamo un secondo allora il cane non è difficile però non bisogna proprio andargli dal davanti facciamo venire giù anche l'altro qui praticamente che cos'è quella porta qua però qua ci sono andato io lo sapevo che non era morto si niente sopra dove ci siamo già andati però vabbè possiamo ammazzare cattivoni sono tipo morti mi ha rubato 2000 di sale dovrei riuscire a non farmi mai prendere però non è facile ok andiamo giù adesso il cane non c'è più dobbiamo andare dall'altra parte oh non ti avevo mica visto ci sei confuso nello scenario anche perché con un bel po' di roba si potrebbe anche tornare indietro ma proprio sono balordi bottiglia da viaggio guarda dov'è hai chiuso la porta però io non lo so se ci poteva già fare qualcosa con 1700 morti all'alti attento fulmine va bene c'è un fulmine qua ma fulmine è inteso questo ah ecco quello è la fulmine ah proprio proprio non ti fa fare nulla bello 1970 di sale no fammi vedere perché magari mi posso potenziare un po' e poi arriviamo alla fine del video ragazzi ma queste servono altre cose secondo me eh dai con 1000 posso salire di due livelli dai andiamo a prendere un po' di roba di roba Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Ok. Ok. A livello di sale possiamo salire di uno. Ah sì, secondo me dobbiamo... Questa è devastante se mi prende. Beh, la torcia servirà per quando sono gli ambienti bui. Probabilmente ci saranno degli ambienti bui, davvero. Allora... Allora, andiamo a prendere un... Un livello... Un livello... Scuri di classe 1, scuri di classe 1. Oh, chi è questo qua? Cacciatore, classe 1, scuri di classe 1, scuri di classe 1. Ma queste gialle... Ma queste gialle non sono abilità che già ho, no? Guarda, guarda... Oh, la la la... Ciao! Ragazzi... Gli amici... Non sono abilità... Non sono abilità... ok tu per adesso non aggiungere danno sacro non male tu cosa fai invece questi due sono un mercante vediamo posso anche vendere fiaschetta vasetto ruba ritornare al santuario wow e quanto costa 500 vendiamo oggetti posso vendere gotiglia del viaggio oh ma ce l'ho la campana io quando ci avrà qualcosa perché non c'è niente questo fabbro vende armi potenzia grazie fabbro allora ragazzi e ragazze amici e amiche grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti migliora sì le statistiche va bene amici amiche ci vediamo al prossimo non si può tornare a schermata principale grazie a tutti credo di sì sai bello l'inventario bestiario credo sia fine del gioco sì grandi ragazzi allora salt and sanctuary marco drums games ciao ci vediamo al prossimo episodio mi raccomando di seguire il mio canale qui su youtube soprattutto su twitch e sui social lascio link in descrizione ma l'importante qua su youtube dove ci sono i video ciao amici e amiche alla prossima mitici mitiche notari grazie a tutti Grazie a tutti.